E dopo sei giorni di copy trading qui alla luce del sole in maniera trasparente sto documentando tutto utilizzo BitGet per fare copy trading, la piattaforma che è il copy trading migliore adesso vi faccio vedere che trader incredibile e che risultati stiamo ottenendo ci sono dei trader incredibili su BitGet e se aggiungiamo a questi trader incredibili una consapevole gestione del denaro e del rischio possiamo portare a casa dei risultati oggi azzereremo i rischi ovvero siamo riusciti in sei giorni a più che raddoppiare il budget iniziale siamo partiti con 200 USDT e siamo arrivati a 495 in sei giorni quindi oggi mi prenderò i 200 iniziali e lascerò al trader soltanto i guadagni quindi zero rischi se perde perde soldi che non ho messo io dal mio portafoglio ma che ho generato col copy trading e comunque lascerò sempre il budget di 200 USDT a lavorare quindi adesso vi faccio vedere tutto se volete sapere come ho fatto ho testimoniato tutto in questa serie ho creato una playlist che si chiama facciamo copy trading insieme la serie ve la metto qui nelle schede l'ho messa anche in un page a questo canale youtube iscrivetevi a questo canale youtube se vi interessa come guadagnare online come fare business online io qui condivido la mia esperienza faccio vedere anche come guadagnare vi faccio vedere vi insegno dei metodi applico questi metodi e vi faccio vedere i guadagni così che voi possiate prendere ispirazione e vedere effettivamente che le cose funzionano col copy trading è incredibile ovviamente non sono un consulente finanziario lo dico sempre fate le vostre dovute ricerche e studiate in descrizione trovate il link per iscrivervi a BitGet se volete provare utilizzate il mio link perché avete il 10% di sconto sulle fee a vita e in più vi ritorna il 10% di quello che depositate quindi fino a un massimo di 100 USDT quindi se depositate 100 scusate se depositate 1000 USDT ve ne ritornano 100 il massimo altrimenti se ne depositate 500 ve ne ritornano 50 che potete utilizzare per il vostro copy trading che non è male io ho iniziato con 200 USDT adesso vi faccio vedere tutto in descrizione trovate i tutorial anche su come registrarvi a BitGet come depositare le cripto ora è semplicissimo comunque c'è anche il deposito bancario potete fare un bonifico potete acquistare con la carta guardatevi i video e iscrivetevi con il mio link andiamo subito a vedere che cosa ha fatto il mitico Q vi ricordo che c'è la playlist vi vedete tutte le puntate dal giorno 1 al giorno 6 dove nel giorno 1 vi spiego la strategia praticamente come ho scelto il trader e come l'ho settato importantissimo se volete prendere spunto imparare io ho fatto poi sul canale qui trovate una marea di video su BitGet ho fatto esperienza ho guadagnato ma anche bruciato e ho fatto esperienza e secondo me adesso abbiamo il giusto approccio e i risultati parlano chiaro adesso andremo a prelevare il budget iniziale sono solo guadagni quindi il focus è sul proteggere il capitale più che arricchirsi velocemente e vi spiego una cosa il copy trading funziona molto bene quando diciamo i prezzi degli asset in questo caso sono cripto e il nostro trader trada soltanto Bitcoin ed Ethereum e questo è buono lo spiego guardatevi gli altri video della serie e va molto bene quando il prezzo lateralizza ora Bitcoin in una fase che sta oscillando tra i 22 e i 23 mila e i trader riescono a performare bene arriverà un giorno in cui Bitcoin avrà un balzo o in su o in giù e lì saranno dolori ma noi adesso a parte che abbiamo impostato il tutto utilizzando soltanto 200 USDT e quindi i guadagni non li reinvestiamo è stato un errore mio precedente il fatto di ridare al trader tutti i guadagni si guadagni più velocemente ma perdi anche velocemente perché è arrivato quel giorno nella mia esperienza precedente comunque tutto testimoniato anche l'esperienza precedente qui sul canale quindi iscriviti e vatti a vedere i video su BitGet ne ho fatti tantissimi così puoi approcciarti meglio e ti ricordo il link in descrizione utilizza il mio perché ogni operazione che apri praticamente hai delle fee da pagare e in più il trader si prende il 10% quindi abbattere i costi è la prima mossa da fare quindi iscriviti con il mio link per avere il 10% di sconto a vita sulle fee e più il bonus fino a 100 USDT di bonus allora quindi arriverà il momento in cui il prezzo schizzerà noi perderemo solo i 200 USDT ci rimarranno gli eventuali guadagni ma andiamo a vedere la fantastica giornata di ieri copy trading future per andare a vedere poi freccettina qui ed eccoci alla cronologia degli ordini di ieri 7 febbraio l'ultimo è stato aperto alle 19 e chiuso alle 19.01 portanto si è a casa 14 USDT questo fa quasi scalping poi tutti gli altri 12 USDT 11 USDT 3 E3 E3 USDT 3 E79 14 35 30 30 30 e 35 queste sono le operazioni di ieri se infatti vediamo nell'altra schermata ci sono quelle fatte a mezzanotte del giorno sì la mattina ieri poi nel video di ieri ho sbagliato non li ha fatti di mattina ma a mezzanotte qui c'è l'orario quindi sono quelli del giorno 5 potete vedere il video lo trovate nella playlist quindi giorno 6 questo è qui allora considerando che lui si prende il 10% ci sono le fee andiamo a vedere in asset eravamo a sto portando anche il conto cartacei eravamo a 3,55 ci siamo lasciati ieri a 3,55 ci ritroviamo a sul conto future a parte sì qui la storia dei centesimini di BGB che mi arrivano vediamo se ci sono delle cripto non lo so non so perché mi arrivano dei centesimini poi io faccio converti in piccoli saldi BGB vabbè sul conto spot andiamo sul future abbiamo praticamente 493 USDT quindi ah ho fatto il calcolo con 493 e con 495 ma in realtà sono 493 quindi dobbiamo togliere abbiamo guadagnato invece di 140 avevo fatto il calcolo 138 netti ieri 138 USDT ragazzi in in 6 giorni abbiamo fatto quindi 293 USDT cioè è uno stipendio settimanale se pensate è un secondo stipendio però non ci facciamo prendere dall'entusiasmo non continuiamo tranquilli con i nostri 200 USDT che gli abbiamo dato ci giriamo e ci preleviamo i 200 che ho messo andiamo su trasferisci questa cosa è stupenda da spot no facciamo da USDTM a spot ok e ci riprendiamo i 200 USDT iniziali conferma trasferimento riuscito andiamo su asset ok ci siamo sul conto spot ora ci sono 201 USDT questi ora io me li prelevo me li trasferisco sul mio conto si binance o crypto.com sono gli exchange che uso e poi converto in euro e sono i miei e quindi qui su future ci rimangono esattamente vediamo se ho fatto bene il calcolo 293 USDT ok ora potrei prendermi anche i 93 sì sicuramente me li potevo prendere però voglio lasciarli qui su future proprio per vedere quanto diventeranno ok tanto per come ho impostato il tutto il trader usa soltanto ne usa soltanto 200 quindi non perdiamo niente vatti a vedere nel primo video giorno 1 come ho settato il tutto se ti interessa trovi sia trovi la playlist qui nelle schede ma anche in home page guardati ho messo tutti i video la serie si chiama facciamo copy trading insieme la serie e quindi guarda dal video 1 poi in descrizione se vuoi provare c'è il mio link per iscriverti a BitGet con il 10% di sconto a vita sulle fee e il bonus fino a 100 USDT in base a quanto depositi ti torna il 10% indietro fino a un massimo di 100 USDT ovviamente fate le vostre dovute ricerche e valutazioni non sono né un trader né un copy trader no sono un copy trader non sono un consulente finanziario si perdono soldi vi ho fatto vedere che si perdono soldi io ho perso soldi quindi però ecco dall'esperienza cerco di imparare e ci sto riprovando finora è andato molto bene abbiamo oggi azzerato completamente i rischi abbiamo questi 271 euro sbucati dal nulla i 200 USDT che hanno generato questi me li sono messi in saccoccia vedremo come andrà quanto praticamente guadagneremo e quindi iscriviti al canale per non perderti le prossime puntate della serie guardati anche gli altri video in descrizione trovi link per iscriverti a BitGet con lo sconto e il bonus e più tutti i tutorial su BitGet se è la prima volta che vedi un mio video iscriviti al canale fammi sapere nei commenti come sta andando e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao